musica come in ogni mio video composto da raccolte fotografiche di camion d'epoca cercherò di far fare un viaggio nel tempo a tutti quanti dai più giovani che vedono queste macchine in fotografia alle persone un po' meno giovani che li hanno guidati e che ricordano gli anni passati credo che non ci sia niente di meglio che una raccolta fotografica esclusivamente in bianco e nero perché questo vintage, questo essere camion d'epoca sì, è bello a colori ma una raccolta a gradazione di grigio o a gradazione di color seppia credo abbia tutto quanto un altro gusto un'altra proprio naturalità quindi spero che questa raccolta fotografica vi piaccia se vi piace questo tipo di video seppur fatto solamente da foto anche già viste ma purtroppo di nuove, nuove al mille per cento non ne possiamo avere ne farò anche magari qualcuno con delle foto fatte attraverso di raduni quindi di camion restaurati attualmente in circolazione per i raduni e qualcuno anche comunque se i video vi piacciono mettete un like magari ve lo scrivete nei commenti cosa vi piacerebbe in particolare e io cercherò di accontentarvi buona visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti